...di segnali, ah! Fai mandare te! No, non ci stavo. Non ci stavo? Non ci stavo, se non le batte, se non le spasso... Eh, per forza non ci stavo. Dice, ho visto io che si spasciava per mano. Oh, annaggia! Ho detto che se ne avevano fregati i libri grandi! Ma quello che diceva non è vero allora! Sì! Che ci stia, ecco, ci stiano essi due... Sono passati, sono passati! Ma dove sono io? Sì, ma viene abbastonato e sono chiappati dell'appenuca salito. Por... Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere l'appenuca salito, andiamo! Se ne rimanga pure che se ne frega! Andiamo, andiamo a vedere l'appenuca salito, andiamo! Andiamo che questi, se passano via l'antini, i libri grandi, manco la crocetta ce li riescono!